alle prese con il momento più difficile e doloroso del loro matrimonio, ormai evidentemente naufragato, Fedez e Chiara Ferragni restano uniti per i figli. Questa mattina i due si sono rivisti a scuola di Leone in occasione di un momento aperto ai genitori. Tra le storie Instagram del rapper, che da giorni ha lasciato la casa in cui viveva con la famiglia, si vede la foto di un foglio scritto in inglese dal primo genito, appeso al muro della classe. Tra le storie Instagram del rapper, che da giorni ha lasciato la casa in cui viveva con la famiglia, si vede la foto di un foglio scritto in inglese dal primo genito, appeso al muro della classe. Tra le storie Instagram del rapper, che da giorni ha lasciato la casa in cui viveva con la famiglia, si vede la foto. Tensioni e rancori non reggono davanti all'amore per i figli, e questo fa sperare i fan che vogliono rivederli insieme. Nonostante i dissapori e la profonda crisi di coppia, infatti, Leone e Vittoria restano il loro più grande collante, forse l'unico in grado di farli ritrovare. Nonostante i dissapori e la profonda crisi di coppia, infatti, Leone e Vittoria restano il loro più grande collante, forse l'unico in grado di farli ritrovare. L'imprenditrice digitale ha pubblicato anche un altro disegno, sempre di Leo, e poi lo scatto del bambino in macchina, sorridente, mentre mostra un disegno pieno di animali e supereroi.